Vasselli, adesso il pallone fuori per Placischi, a giocare con Catapan, che si prende un tiro da tre punti, Federico Catapan. Stefano Piredda, ancora Gnang a gestire la transizione, molto bene per Catapan, che va su con la mano sinistra e va a realizzare. Ora Gnang, ora zona per Coach Mulas, vediamo se la punirà Trento e la punisce come, perché Federico Catapan risponde con la... Troppo difficile, troppo piccolo contro una buona difesa di Vittorio Trigiani, da parte del contropiede per Catapan, butta con la mano sinistra, cinque punti di fila di Catapan. Non è un fallo, non viene fissiato dagli arbitri e ora da parte del contropiede, Catapan facile, interferenza a canestro, Dias da non lasciare da parte di Trento. Però Dore non concretizza, da parte del contropiede, Catapan sotto canestro, realizza con il fallo subito. Più undici, Sassari che vuole chiudere questa partita, arriva Catapan a rimorchi importante per tenere aperte. Salio Gnang e poi perde incredibilmente, palla Sassari, Gnang, airball, rimbalzo offensivo, la palla è fuori, Catapan da tre punti! Incredibile! Troppo quarto, Trigiani, Gnang, troppo spazio per lui, sceglie invece di prendere la tripla in angolo, è un'ottima hit. Largo il gap, 59-67, Gnang, punta il cuore dell'area, quindi la tripla dall'angolo messa. Savio, Trigiani, fa saltare la difesa, ancora Trigiani, scarico fuori per Catapan, non ha paura, il classe 2008 di prendere il tiro, che entra dentro con l'aiuto degli dei del bambino. Trigiani, che attacca la colonna sinistra, si butta dentro, scarico per Dorigotti, giardo il pollo per Catapan, che prende e spara e realizza la... Ancora Dorigotti in palleggio, Frigerio, con sedia per Dorigotti, palla per Catapan, che ne ha appena messa una, non esita a spararne un'altra! Federico Catapan! Poi si ferma, Gnang si butta dentro, difficile, ma poi trova uno scarico incredibile per Catapan, che segna la tripla! Federico Catapan!